La cannabis nelle Marche è un'occasione per creare lavoro e sviluppo dell'economia del territorio. Il gruppo Pio Europa Marche è ospitato Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di Pio Europa, in un incontro in difesa del settore della cannabis light, a seguito della sentenza dello scorso luglio operata dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha sancito un rallentamento degli investimenti nel settore agroindustriale della canna passativa. Abbiamo presentato un emendamento al Senato con Emma Bonino per dare certezza a tutti gli operatori di tutta la filiera agroindustriale della cannabis sativa, della cannabis light, perché si deve specificare che tutto quello che riguarda questa pianta, che è diversa dall'altra, quella da cui si ricava Ascici e Marijuana, tutto quello che riguarda questa pianta deve essere legale. Dobbiamo tutelare imprenditori, in particolare in questo settore giovani, che hanno investito per la produzione, per la trasformazione e per la vendita dei prodotti della cannabis light, recuperando, peraltro, una grande tradizione agroindustriale. Parliamo di milioni di fatturato in gioco, di migliaia di esercizi commerciali, di centinaia di imprese per la produzione che si stanno mettendo in gioco in un settore che era in fortissima crescita e che è stato stroncato dall'incertezza generata da alcune sentenze. Se la legislazione non è chiara è bene chiarirla e chiarirla nell'unica direzione sensata, cioè di dire che tutto quello che riguarda la cannabis sativa è legale. Parecchie migliaia di cittadini marchigiani hanno investito tempo e soldi nell'inventarsi una nuova professione e questo è fondamentale in un momento in cui ancora risentiamo degli effetti della crisi di dieci anni fa. Noi dobbiamo assolutamente tutelare questi cittadini marchigiani che appunto non devono perdere il proprio lavoro. Per noi è un diritto fondamentale e inalienabile. E quindi dobbiamo assolutamente presentare come faremo delle proposte di tutela non solo a livello nazionale con la senatrice Emma Bonino ma anche nel nostro programma elettorale per le elezioni regionali di primavera 2020 a tutela dell'intero settore, dal coltivatore al rivenditore. Quali sono le richieste da parte del territorio marchigiano? Le richieste sono molteplici, sicuramente quella di tutelare l'aspetto lavorativo è la principale ma ci sono anche esigenze di accesso alle cure. Noi vogliamo anche presentare una legge regionale, una volta appunto che saremo eletti nel Consiglio insieme al Consiglio regionale per far sì sul modello di quella che ha presentato il nostro consigliere regionale Michele Usuelli in Lombardia di poter coltivare la cannabis ad uso terapeutico direttamente qui nelle Marche, nei campi marchigiani. È un settore su cui noi abbiamo creduto fin da subito, fin da quando sostanzialmente nel 2003-2004 sono state dismesse le barbabietole da zucchero con gli zuccherifici che hanno chiuso noi abbiamo intravisto nella canapa un'alternativa di reddito per gli agricoltori del nostro territorio. È un settore che tuttavia ha necessità di una legislazione più chiara e che faccia soprattutto chiarezza sul lato della vendita dei prodotti ottenuti dalla cannabis. In particolare noi siamo già abbastanza sviluppati per quanto riguarda sia il tessile che l'edilizia anche il lato alimentare per quanto riguarda l'olio di semi di canapa e le farine. C'è un problema ancora per quanto riguarda le infiorescenze, soprattutto quelle che non hanno comunque un contenuto di THC che tuttavia ad oggi stando alla sentenza della Corte di Cassazione luglio del 2019 non c'è stata comunque quella chiarezza che ci si aspettava dalla Suprema Corte. L'ipotesi di chiusura degli shop di Cannabis Light che cosa ha comportato? Ha comportato un declino delle vendite drastico sia perché comunque sia il comparto dei negozi di Cannabis Light rappresenta uno sbocco di mercato per tutti i derivati della canapa e anche un tipo di comunicazione che favoriva il settore ma soprattutto perché le notizie che sono sosseguite nell'ultimo periodo, parliamo degli ultimi 12 mesi, hanno compromesso quella che era la cultura dei benefici anche salutari che porta alla canapa. Quindi se fino a poco tempo fa era vista come un prodotto salutare e quindi benefico per tanti comparti, soprattutto quello dell'alimentare e dei principi attivi, oggi purtroppo è vista come droga. Presente all'incontro anche l'amministratore unico dell'Agenzia Sviluppo Marche, Gianluca Carrabs, disposto a promuovere un tavolo di confronto fra la Regione e le associazioni di categoria del settore affinché la filiera agroindustriale della canapa stativa possa continuare ad essere volano di sviluppo per il territorio marchigiano. Questa è una grande opportunità per le marche e per quel modello multifunzionale dell'agricoltura che voglio ricordare nelle marche ha già dato dei frutti perché agli esi abbiamo più di 100 famiglie che lavorano attraverso la produzione e quindi la creazione della filiera agroindustriale della canapa. La Regione è stata molto attenta in questo perché proprio quest'estate ha legiferato a tal proposito, ha codificato come può avvenire lo sviluppo tra la filiera, la ricerca e l'applicazione in agricoltura della produzione della canapa. Ha anche stanziato 130 mila euro per creare le cosiddette start-up e per far sì che associazioni di agricoltori, agricoltori, imprese e cooperative possano attingere a queste risorse per sviluppare questa filiera così importante. Voglio ricordare che la canapa è una materia prima fondamentale anche per sostituire la plastica, anche per sostituire i materiali di costruzione delle nostre abitazioni, quindi una materia prima così importante non può essere sottovalutata. Dobbiamo lavorare, io infatti oggi ho lanciato l'importanza di costituire a livello regionale un tavolo tra associazioni di categorie, quindi di associazioni agricole, i produttori e anche il mondo della ricerca per trovare un progetto comune per lo sviluppo nelle marche.